Aveva giocato e perso circa un migliaio di euro, così per avvendicarsi nel cuore della notte ha cosparso le porte d'ingresso di tre locali a retini di liquido infiammabile ad accorgersi di quanto successo i proprietari dei rispettivi bar insospettiti dal forte odore. L'uomo, un 47enne a retino con numerosi precedenti, era entrato in azione attorno alle 4 nella notte tra il 19 e il 20 febbraio scorsi. La mattina c'era cattivo odore, c'era tutto l'olio in terra, tutta la porta sporca d'olio, i vetri, è tutto in alto, era tutto imbrattato. Si è capito solo dopo, quando c'è giunta voce, che la stessa cosa era successa da altre parti, che era successa in altri locali e dopo niente, sono stati chiamati carabinieri. Dopo la denuncia presentata dai titolari, i carabinieri si sono immediatamente messi sulle sue tracce. Le indagini hanno così consentito di individuare, dietro a quegli episodi, un unico responsabile, tradito dalle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Ma non solo, i filmati hanno poi permesso anche di ricostruire passo dopo passo le azioni dell'uomo. Lì per lì non ti ha fatto certo piacere, che certamente non ha fatto piacere. Poi, fortunato, è finito lì, non c'è stato un seguito. Lì per lì non sapevo che pensare. I militari, infine, sono riusciti a risalire al movente di quel folle gesto. L'uomo voleva vendicarsi nei confronti di quei bar. In alcuni di questi, la sera precedente, aveva giocato e perso una somma considerevole alle slot machine. Per l'uomo è quindi scattata la denuncia per minaccia aggravata e imbrattamento di cose altrui.